Buongiorno a tutti. Che bene, ragazzi, ma quanto è difficile spitalare su questi ciclosi? Poco. Poco, vedi, ci piace per andare a scuola, è il metodo perfetto. Tu come ti chiami? Alice. Alice, quanto ti diverti qui sopra? Tantissimo. Tantissimissimo, ma senti anche i rumori che fai. Tu chi sei? Vittorio. Vittorio, senti, ma ti piace il colore di questo ciclo bus così azzurro? Sì. Va bene, va bene, azzurro come la nostra nazionale, ma non ne parliamo. Allora, parlavamo di ciclo bus di sostenibilità, è un progetto che quindi nasce a Sigrate, ma vuole magari poi espandersi, penso anche a Truttona. Allora, ci sono le voi.